Il caos su via Marconi, tutta colpa della giunta d'Alfonso. E' questa la posizione di Vincenzo Dincecco, consigliere regionale e capogruppo della Lega al comune di Pescara. Venerdì c'è stata una riunione dell'amministrazione comunale. La proposta del carroccio è quella di procedere con il progetto, ma gradualmente. Se avessimo potuto riscrivere da capo via Marconi magari l'avremmo pensato in un altro modo, ma il progetto lo abbiamo ereditato, questo va detto. I finanziamenti sono del precedente governo regionale, quindi è un progetto che noi abbiamo leggermente modificato e migliorato secondo le nostre attitudini. Se avessimo avuto questi soldi direttamente noi per poterlo riscrivere, magari l'avremmo visto in un altro modo. Certamente un'amministrazione che arriva non può cancellare completamente tutto quello che è fatto la precedente amministrazione, anche perché si rischiava di perdere un finanziamento. E oggi, con la necessità di avere fondi, un comune non può perdere più di un milione di euro di finanziamenti per rifare una strada. Questo sarebbe stato imperdonabile. Per noi via Marconi è un asse fondamentale per la viabilità e dobbiamo anche immaginare che quando la famosa metropolitana di superficie prenderà possesso di questa città, via Marconi dovrà essere una strada all'interno della quale la metropolitana di superficie passerà e porterà magari un altro tipo di commercio. Quindi in quest'ottica e anche verso il futuro noi dobbiamo immaginare che questo perciò non può essere modificato. Cerchiamo solo di arrivarci con gradualità. I parcheggi quindi potrebbero sparire un poco alla volta. I tempi però non sono stati scanditi. Sarà compito dell'ufficio tecnico. Noi vogliamo continuare col progetto così come l'abbiamo definito con questa amministrazione. Ma allo stesso tempo cercare di riflettere un pochino sulla tempistica della privazione dei parcheggi visto che non è ancora chiuso il tema del passaggio della metropolitana di superficie. Nella riunione di venerdì non è stata affrontata la questione dei locali notturni. L'intenzione dell'amministrazione però sarebbe quella di diversificare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi così da creare una mobilità della Movida.